Io ti posso dire delle parole in dialetto, aspetta, non mettere in italiano perché io... Come ti senti comodo? In dialetto, se parlo in italiano se mi sbaglio qualcosa... Lo dici in dialetto? Non vuol dire niente, perché io non l'ho studiato, capisci? Benissimo capisco. Bene, se ti viene da dire in dialetto, dici in dialetto. Dai, di bene. Che siamo? Ci dici nome, cognome, anno di nascita e nome di battaglia. Nome Arnello Reste, nome di battaglia Leoncino. E dopo? Di che anno sei? 16 gennaio 1926. Auguri. Oggi compio gli anni, probabilmente festeggiato, nome lì. Marino, dopo ti ho dato un rastro. Allora? Allora, partiamo se vuoi dal nome di battaglia o dal tuo primo giorno che sei diventato partigiano. Quale preferisci? Adesso, faccio un po' la storia. Bellissimo. Dunque, il 13 di giugno hanno bombardato Rocchetta, no? Di che anno? Il 1944. Hanno bombardato Rocchetta il 13 giugno. Allora noi eravamo ragazzi di ticciotane, no? E li siamo andati a vedere, no? Sta facendo come era. Un bel momento cominciava a arrivare queste macchine di fascisti da Savona. Belli con il fezze, stivali lucidi. Allora noi siamo un po' spaventati. Perché io c'era il manifesto che alla fine di giugno dovevo presentarmi a Savona, all'ufficio così così, che ero destinato in Germania per l'agricoltura. Allora ce n'era tre della mia leva. Posso dire il nome? Sì. Castellano Mario, del 1926, Rossi Rinaldo del 1926, io, Nell'Oresta, del 1926, e Barbieri Sergio del 1924, che era già stato soldato e dopo quando è successo il patto a trada, è venuto a casa e dopo è venuto con noi, no? Allora per lì che abbiamo visto tutta questa gente, ci siamo riuniti la sera, abbiamo detto qui ragazzi, va a finire che fanno qualche rettata, allora tutti quadro d'accordo e il 15 di giugno abbiamo preso questi quattro stracci e siamo andati lì a Montebri, qua è un brigo, te lo sai, no? Montebri, Valdebano, no? C'era una cascina, una cascina che era dei farmacisti di Cairo e c'era una cucina e lì di fronte lì c'era un fienile, noi facevamo un po' da mangiare lì e la sera dormivamo, no? Eravate solo voi cinque o c'erano già degli altri? Quattro soli, noi quattro abbiamo formato la brigata Savona, allora mi ha detto bisogna andare giù cercare di fare qualcosa perché qui non possiamo più uscire, beh lì sono vicini, no? Allora abbiamo preso quelle quattro armi e io avevo un 91 che era più alto di me, beh lì le armi erano quelle lì, no? La squadra era di dieci uomini e il comandante undici, no? E loro due, pensano, undici e noi tre vi girevamo. Non so se abbiamo portato fortuna o sfortuna. Siamo andati giù? Beh lì erano dalla finestra. Noi le abbiamo dato l'alto, no? Tanto per cercare di fare qualcosa. Abbiamo sparato qualche colpo, no? No, in direzione. Beh lì loro hanno preso la maschina, l'hanno messo dalla finestra e caro mio si salvi chi può, eh? Da lì si è messo a sparare. Noi avevamo fatto qualche raffica, qualche schiopettata, no? E dopo la faccenda è andata tutto bene, no? Noi si siamo ritirati, si siamo ritirati e siamo di nuovo ritornati al Pian Lazio. Abbiamo parlato un po' di sta faccenda, no? Vabbè, all'indomani mattina, all'indomani, i repubblichini, più furbi che noi, hanno molato tutto e si sono, sono andate a Ferragna, si sono, le sono andate nel dopolavoro della Ferragna, si sono, è stata un'azione, però, capisci, che se non andavamo lì, noi non potevamo più uscire, allora, beh lì che il comandante ci ha fatto un bucchio di, e vabbè, tutta la faccenda. Ci ha fatto un bucchio di complimenti? Complimenti, complimenti, beh lì, e sono, il giorno dopo sono andati via di lì, eh, sono andati a Ferragna nel dopolavoro, si sono piazzati lì, e noi potevamo girare, vabbè, dopo un altro giorno, forse una settimana, eravamo di nuovo lì, sempre lì al pianlazzo, no? Sentiamo due raffiche di mitraglia, no? Porco Dio, allora il mio comandante di Djibout mi fa, porco comandante, bisogna andare a vedere, prepara una squadra che andiamo a vedere, no? Cosa è successo, perché era, è la collina di Dego, no? È il bricco più alto che c'è qua in giro, te forse lo sai, no? Cosa? E, allora, preparato una squadra, sempre di dieci uomini, lui il comandante, undici, dove eravamo noi, alla collina, quei tempi là, in venti minuti, si arrivavano, io non c'ero mai stato sulla collina, arrivo su sulla collina, ma lì io vedo, perché abbiamo preso il bosco, no? Stavo su, arrivo lì sulla collina, orco Dio, vedo tutto pulito, c'erano i faggi, no? Grosso, che bello, io non c'ero mai stato, no? E mentre, prendiamo, c'è spugli, erano qua, no? Noi abbiamo seguito i c'è spugli, facciamo 50 metri, e vediamo, io per primo, il comandante era, Gibuti era il primo, io ero dietro, tutta l'altra squadra, la squadra dietro noi, no? Vedo, una cosa, di machine gaver, no? Una, come lo vuoi dire, una scatola, come? Un piedistallo? No, no, dove c'era, il nastro dentro, le palotole della machine gaver, e due, bombe a mano, e il nostro comandante mi fa, non toccate, lasciate stare tutto lì, dopo vado un po' più avanti, trovo, il cappello, di un soldato tedesco, era il tenente, e lì, vicino, c'era, uno del nostro, non del nostro distaccamento, del distaccamento di sguerzo, che era di guardia, come ha visto il tedesco, l'ho puntato, ho preso proprio il comandante, e io prendo, perché allora, quando ci ha sparato, l'ha preso nella testa, e lasciato il berretto lì, quando ho visto quel comandante, loro cosa hanno fatto? L'hanno preso, l'hanno portato giù, c'erano una cinquantina di tedeschi, sono state portate da lì, da una spia, che dunque loro, fino a lì, non arrivavano, senz'altro, e l'hanno portato giù, e noi, per lì, vado così, porco dì, vedo se due, pompa mano, e sta scatola, lì, di connessione, dopo guardo là, vedo il suo berretto, lo prendo in mano, lo guardo bene, non era uno di quei berretti duri, no, che avevano i tedeschi, no, era un berretto da battaglia, no, lo guardo bene, dopo lo giro, vedo le cervelle dentro, materia grigia, porco dì, l'ho buttato via,